Buongiorno, auguri a tutti, ve lo dico in anticipo, oggi è domenica, tra poco è Natale, insomma un auguri anticipato a tutti quanti. Per due giorni non ci saranno i giornali, quindi la zuppa per due giorni potrà fare riposo e quindi gli auguri anticipati. Magari faremo qualche cos'altro sul sito nicoloporro.it. Intanto le notizie di questi giornali che ci terremo per due giorni. Vi do qualche spunto in maniera tale che voi lo possiate leggere. Sullo U-Soli non passa, non passa perché manca il numero regale al Senato. Insomma vince Calderoli che aveva fatto un grande ostruzionismo e grazie alla mancanza del numero regale al Senato si è capito che non si riuscirà a votarlo. Era una legge che non aveva senso farlo a fine legislatura perché c'erano tanti sui aspetti che potevano essere migliorati e resi un po' più compatibili con il sistema italiano. Bene che non venga. Soltanto una piccola segnalazione. Al Senato si sono astenuti, cioè non si sono presentati oltre che il centrodestra, anche il Movimento 5 Stelle e anche 29 senatori del PD. Insomma non proprio monolitico questo PD. È stata invece approvata definitivamente la manovra di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Della manovra vi voglio dire soltanto due numeri. La manovra è da 21 miliardi. Sono soldi vostri, non è che nascono dagli alberi questi 21 miliardi. Sono soldi nostri. Questi 21 miliardi sono stati spesi per 15 miliardi per evitare che aumentino l'IVA. come una specie di cambiale che ci portiamo da anni, perché l'IVA sarebbe dovuto salire al 25%. Quindi bene che di 21 miliardi 15, praticamente due terzi, siano stati utilizzati per congelare un aumento fiscale. Gli altri 6 miliardi che avanzano tra 15 d'IVA e 21 della manovra, 2 miliardi sono per il rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici, 2 miliardi per le altre politiche adottate negli anni scorsi, per esempio i nostri militari all'estero, cose che sono obbligatorie, e 2 miliardi per nuove spese, quindi 2 per gli statali, 2 nuove spese in cui c'è tutto, e 2 per politiche che erano da rifinanziare, come ad esempio i nostri militari all'estero. Come abbiamo trovato questi 21 miliardi? Beh, è facilissimo. Per 11 miliardi, 11 miliardi, cioè la metà di questi 21 miliardi non li abbiamo trovati, li troverete voi, anzi i vostri figli, perché è deficit per gli anni a venire, quindi è maggiore debito, già c'è un debito così, ma abbiamo aumentato il nostro debito per coprire questi 21 miliardi. Poi abbiamo aumentato, abbiamo ridotto le spese per 4,5 miliardi, questa è la riduzione su 21 miliardi, e per 5,5 abbiamo aumentato le tasse, quindi il maggiore deficit, che vuol dire tasse future, più l'aumento delle tasse previste dalla finanziaria, fa sì che di 21 miliardi, 16 sono di maggiori tasse. Siete contenti? Vi sembra una manovra, come ha detto Gentiloni, che sia una spinta alla crescita? Ragazzi, tutto si può dire, tranne che questa manovra sia una spinta per la crescita. Nel frattempo, dopo la raggi che ha dato un aumento a tutti quanti, 15 mila i suoi dipendenti, di 80 euro al mese, va molto di moda dare aumenti di 80 euro, ci ha pensato anche lo Stato, il Governo, ieri hanno brindato 85 euro, il rinnovo dei contratti. Io mi sono andato a guardare le dichiarazioni dei sindacati, tutti unanimi, superata finalmente la riforma Brunetta, cioè il punto fondamentale è che la Brunetta era troppo dura sui permessi sindacali, troppo dura sui permessi di malattia, troppo dura su alcune prerogative che hanno i nostri dipendenti pubblici, quindi varie norme penalizzanti, così scrivono oggi i giornali, in materia di assenze e malattie. Allora, se Brunetta, Santo Brunetta, aveva veramente fatto le norme penalizzanti in materia di assenze di malattie, questo è un mistero gaudioso, a posto che i dipendenti pubblici oggi ancora si ammalano più dei dipendenti privati e hanno un tasso di assenze molto superiore ai dipendenti privati. Avranno nuovi permessi e vi segnalo che secondo il contratto lavorano 36 ore al settimana. Allora io dico, santo Dio, siccome siamo noi che paghiamo questi dipendenti, che siano comunali, che siano regionali, o i 250 mila statali, per cui ieri la Madia ha brindato all'ultimo giorno del suo governo dicendo che bel contratto che abbiamo fatto, mi chiedo, vi sembra normale che noi siamo così contenti di aver dato un aumento ai nostri dipendenti mantenendogli 36 ore di lavoro, mentre tutto il resto del mondo non ha né aumenti e soprattutto non lavora 36 ore alla settimana. Io non ce l'ho contro i dipendenti pubblici, ci sono dipendenti pubblici straordinari, ci sono dipendenti pubblici anche mal pagati per quello che fanno, perché non lavorano i 36 ore che i ministri che vogliono fare le bandierine e che sono lì molto per caso, come la Madia, oggi brindano di aver aumentato i loro stipendi con i nostri soldi facendosi belli loro e accontentando i sindacati che rappresentano questi lavoratori privilegiati rispetto all'universo mondo. Certo, ci vuole il buon lavoro, come diceva Boldrini, buon lavoro sarà quello di diventare tutti i dipendenti pubblici evidentemente per chi ci riesce. L'intervista a Midniti perché sono arrivati 160 dalla Libia con un aereo, molto interessante, Repubblica l'intervista, al punto di vista del giornale di Gian Michele Essine, di cui mi fido molto. Dice Gian Michele Essine, ovviamente non risolveremo nulla con questi corridoi umanitari che vengono fatti con i Boeing a botti di 150 persone. Il punto fondamentale è che Midniti così potrà, con una certa parte dei cattolici, penso all'avvenire e della sinistra, farsi scusare la sua battaglia contro l'ONG. Cioè il ministro che dice che la sicurezza non è una battaglia di destra e si comporta come un uomo di destra, alla fine sapete che cosa fa? Alla fine fa una bella operazione con un bello spot elettorale che si è fatto su Repubblica oggi con la sua intervista, il corridoio umanitario, questo è il modo di comportarsi. Complimenti al ministro, complimenti al nuovo presidente del Consiglio Minniti che è riuscito a darsi una patina di sinistra che era, diciamo, come possiamo dire, rovinata dalla sua intransigenza nei confronti della politica di immigrazione assurda che aveva fatto Alfano precedentemente a lui. è stato arrestato dopo che la Cassazione ha confermato il verdetto dell'appello, finalmente è stato arrestato. Sono molto dispiaciuto quando uno va in galera, in assoluto, colpevoli che vanno in galera ci devono stare e la galera serve ovviamente, ma godere di chi sta in galera non è mai un bel atteggiamento, ma l'idea che questo porco sia in galera mi fa davvero piacere. Questo signore per 40 anni ha violentato sessualmente minorenni nel cosiddetto cooperativa rossa di Forteto. Tutta la Toscana rossa lo sapeva, fu arrestato nel 78, ma siccome era finanziato dalla sinistra, la sinistra finiva le sue campagne elettorale là, soltanto il giornale aveva detto quello che succedeva in quel campo e in quel campo venivano affidati i bambini delle famiglie disagiate, cioè gli ultimi di questo mondo, allora la cooperativa rossa e il maiale che si chiama Rodolfo Fiesoli, che sia dannato, Rodolfo Fiesoli, lui e tutti quanti i suoi complici istituzionali, magistrati, politici, intellettuali e giornalisti che per 40 anni lo hanno coperto, perché si sapeva, non era Weinstein, tutti sapevano quello che faceva ai minorenni questo signore facendo finta di fare Don Milani, invece violentandoli, menandoli e facendo gli evangeli del cervello. Bene, finalmente sta in galera, glorificato dai libri di Il Mulino, l'esperienza di questa cooperativa, i libri di Il Mulino, sai vedete quelli chic del Mulino? Ecco, lo glorificavano. Bene, per fortuna è in galera a 76 anni, è un disastro che sia in galera a 76 anni, doveva stare in galera dal 78, quando fu arrestato per la prima volta e poi grazie alle sue amicizie comuniste della Toscana uscì. Nel 78 doveva stare in carcere e così impedirgli di fare del male ai bambini. Ha continuato a farlo per 40 anni, purtroppo soltanto oggi, quando è un vecchio che si avvia alla sua morte, soltanto oggi purtroppo gli sarà impedito di fare quello che non faceva da tempo, cioè violentare bambini minorenni. L'ultima questione che, per non chiudere con una brutta storia, ma anche se questa è una storia che farà discutere, e oggi il giornale ci apre, è la questione dell'iPhone. Ve la faccio molto semplice. L'iPhone, l'Apple, ogni po', come tutte e quanti le altre grandi compagnie che producono telefoni, aggiorna i suoi sistemi operativi. Ebbene, i suoi sistemi operativi che girano sui telefoni vecchi, gli iPhone 6 e gli iPhone 7, li facevano, avevano all'interno di questi sistemi operativi un algoritmo per farli andare molto lentamente, quindi esasperando l'utilizzo di questi telefonini da parte di chi ce li aveva. Quindi, chi aveva i vecchi telefonini, avendo aggiornato il nuovo sistema operativo, 10.8 mi sembra, 10.2, cosa faceva? Aggiorna il telefonino, vede che il telefonino è lento e va a comprarne un nuovo, così gli dicono ovviamente al negozio della Apple. Allora, questo atteggiamento di rallentare i telefonini non era un atteggiamento che derivava dalle maggiori funzioni all'interno di questo sistema operativo, o meglio, non solo da quelle, ma era stato studiato dagli ingegneri della Apple affinché consumasse meno la batteria. Mettiamola così. Insomma, dicono una serie di class action americane che questo atteggiamento della Apple era stato fatto per far sì che i clienti comprassero nuovi telefonini da 1.200 euro, quanto costa oggi un iPhone X. Allora, ci saranno tutte le questioni legali e soprattutto quelle dell'ipocrisia, come Giuseppe Marino oggi mette in grande evidenza sul giornale, perché Tim Cook, il mito che arriva a Firenze e dice ai ragazzi di Firenze una settimana fa cambiare il mondo in meglio, beh, insomma, giustamente Marino gli dice prima di cambiare il mondo in meglio forse cerca di non rendere obsolescenti i telefonini di due anni fa per poterti guadagnare 1.500 euro sulla spelle dei poveri consumatori. Allora, l'ipocrisia della Apple, di Facebook, di Google, delle felpe californiane l'abbiamo raccontato tante volte, ma il tema qui, secondo me, è un altro. E non è tanto la class action, i giuristi, gli arresti, ma è quello che facciamo modestamente noi anche sulla rete. E cioè, siccome noi ci siamo accorti che questi telefonini dopo un anno e mezzo diventano vecchi perché ci sono sistemi operativi sempre più nuovi, l'alternativa c'è. Non è che Apple è il monopolista degli smartphone al mondo. Ci sono i Samsung, ci sono gli Huawei, ci sono i Sony, ci sono i Motorola, non lo so, adesso dico nomi a caso. Ce ne sono tantissimi altri, tantissimi altri concorrenti. Quindi, se non volete avere un telefonino Apple, perché non vi fidate, ne comprate un altro. Nessuno vi obbliga ad avere Apple, paradossalmente sei obbligato ad avere Facebook, oggi se vuoi avere un bel social network, ma smartphone è di tutti i tipi. Dunque, grave quello che ha commesso, ma grave da un punto di vista filosofico, intellettuale e di ipocrisia da parte di questa azienda che fa finta di essere l'azienda della generosità, dei diritti, della modernità, dell'ecologia, eccetera. Poi che cavolo di ecologia c'è se devo cambiare un telefonino ogni anno e mezzo? Poca. Però la battaglia è sul mercato e non sulle grandi decisioni dittatoriali. Direi che per oggi è tutto, vi auguro ancora a tutti quanti voi molti, molti auguri per un sereno Natale e grandissimo anno.